Allora, appena terminato di leggere, l'intervista ad una donna di 47 anni di Voi Eugano e ho rilasciata al Corriere della Sera. Una donna trovata positiva al tampone, quindi una malata, un'infettata del coronavirus, ok, che ci dice come stanno realmente le cose e secondo me non sarebbe male leggere questa intervista e diffonderla attraverso gli altoparlanti di tutte le città in modo che forse recuperiamo quel minimo di senso delle cose, quel minimo di ragionevolezza che c'è completamente sfuggita di mano. Ma c'è sfuggita di mano perché è il prodotto, è il risultato della somma di tanti stress, ok? Lo stress della politica che non ha saputo gestire questa cosa, non l'ha saputa immediatamente capire e governare come avrebbe dovuto fare, uno stress della comunicazione che ci aggiorna come se si trattasse di un bombardamento, come se si trattasse di una guerra. C'è il pallottoliere, c'è la contabilità dei malati, cioè di coloro che sono stati trovati positivi al tampone, che è una contabilità, un pallottoliere assurdo perché sta aumentando la nostra paura e da lì poi faremo dei ragionamenti. Vediamo di capire perché quel pallottoliere è stupido, anche da pubblicarlo in questo modo, perché noi stiamo generando l'impressione che tu sia un malato, chissà se è il malato di coronavirus, cioè è il mostro che arriva dal buio, è il mostro che arriva dal bosco nerissimo che viene a mangiarti. Ecco, è una paura infantile che non abbiamo saputo minimamente governare. Ecco perché questa intervista, secondo me, è fondamentale. Questa donna guarita, questa donna malata di coronavirus, infettata dal coronavirus, vediamo che cosa ci racconta come sua esperienza. Dicendo immediatamente, vedete, svegliamoci ragazzi, ci stiamo facendo del male da soli. Ed è così. Allora, lei praticamente lunedì è tornata a casa, in isolamento domiciliare fiduciario, insomma la quarantena di quattro giorni, scusate, la quarantena di quattordici giorni, la sua degenza è durata poco, appena un giorno e mezzo. Che cosa ha avuto? Ha avuto zero febbre, ha avuto un po' di mal di testa e si è preso il suo moment. Signori, questo è quello che è accaduto. Non ha avuto, perché ci sono dentro il famoso pallottoliere del quale i giornali ci danno l'aggiornamento, giornali, televisioni, siti, ci danno l'aggiornamento costante, ok? Ha dentro situazioni dove c'è gente che manco si piglia la febbre, ok? Come del resto accade con una grandissima percentuale di coloro che si prendono un virus influenzale normale. Allora, la signora ci dice, svegliamoci ragazzi, ci stiamo facendo del male da soli. I medici che cosa le hanno detto? Quello che sto dicendo io, gli anziani devono stare più attenti, gli altri facciano attenzione a non pestarsi i piedi e a tenersi a distanza. Adesso, attenzione sugli anziani. Gli anziani stanno diventando quasi il nostro sospiro di sollievo. Ah, ma tanto prende gli anziani. attenzione, gli anziani intanto la vera paura l'hanno vissuta ai tempi della guerra. Noi stiamo utilizzando un linguaggio bellico, un linguaggio la cui ecco ci rimanda agli anni della guerra, quel glossario lì, e gli anziani oggi in qualche modo diventano un po' il nostro sospiro di sollievo, come dicevo, tanto si ammalano loro perché sono anziani e sono già ammalati. Sì, ma gli anziani malati? Cioè, anziani che sono già esposti ad una difesa immunitaria assolutamente basse e quindi questo può essere un ulteriore elemento che affatica e stressa l'organismo. Ecco, però non è che gli anziani si ammalano e diciamo, eh, tanto si ammalano gli anziani perché anche su questo ormai si arriverà a sentire roba incredibile. Ha mai avuto paura? Domanda il giornalista del Corriere della Sera alla signora. Ma di cosa? È una influenza, mica muori se non sei già malato. Mi sembra che siamo diventati tutti scemi, dice questa signora positiva al tampone, l'infettata, ok? Adesso però guarita. Per fortuna lei ci sta raccontando quello che dovrebbe essere diffuso, diffuso da tutti. Allora, racconta anche di un video che vede su Facebook e dice, mi ha colpito il video di un signore con la mascherina. A un certo punto si è tolto la mascherina e ha detto di essere un malato di cancro, a cui resta un mese di vita. Noi, diceva, andiamo via nell'indifferenza generale senza rompere i coglioni a nessuno, mentre voi state impazzendo per questa cosa qui. Ma non vi vergognate? Chiedeva. Secondo me ha ragione lui. Un po' ci dovremmo vergognare.